Per tre anni le nuove attività economiche pesaresi otterranno i rimborsi di IMU comunale, TOSAP addizionale IRPEF imposta sulla pubblicità e soprattutto sulla Tari fino a un massimo di 100 metri quadrati e questa la modifica al nuovo regolamento per le attività del comune di Pesaro presentato oggi in Sala Rossa come importante misura a sostegno dell'impresa. Le attività pagheranno regolarmente i tributi ma poi potranno compilare il modulo di rimborso che vedranno erogato come contributo entro il 30 settembre 2021. Diventa un sostegno importante, un contributo importante per tutte le nuove attività economiche che apriranno a Pesaro. Quindi Pesaro per tre anni diventerà davvero una no tax area. No tax area che cosa vuol dire? Che tutti i tributi comunali, quindi a cominciare dall'IMU, dall'ICP e includendo anche la Tari, verranno rimborsati a tutte le nuove attività, a tutti i nuovi imprenditori che decideranno di aprire a Pesaro. Un'altra grande novità di questo regolamento è che interesserà non soltanto le attività commerciali ma anche tutti gli studi associati, tutti gli studi professionali. Quindi un giovane ingegnere, un giovane avvocato, un giovane under 40 che decide di aprire uno studio a Pesaro si troverà per tre anni a non dover pagare nessun tipo di tributo comunale. È una misura importante di sostegno e rilancio dell'iniziativa imprenditoriale nel nostro territorio perché riguarderà non più soltanto il centro storico ma riguarderà tutta la città di Pesaro e diventa veramente uno strumento di rilancio dell'iniziativa economica imprenditoriale per tutta la città. La modifica regolamentare è già stata approvata dalla Giunta Comunale. Un'attenzione alle nuove attività senza però dimenticare gli affanni degli esercizi già esistenti. Ovviamente questo è un momento economico molto particolare. Questo ci impone di trovare tutte quelle misure che in questo momento sono possibili come comuni per poter aiutare le realtà già esistenti sul territorio. Tutto quello che era inquadrato all'interno dei provvedimenti nazionali il Comune di Pesaro l'ha fatto. Penso all'esenzione dell'occupazione solo pubblico che ha interessato non soltanto gli spazi in più ma tutto lo spazio pubblico in tutta la città di Pesaro. Penso all'esenzione IMU per alcune categorie. È chiaro che i provvedimenti che possono mettere in campo i comuni su questi tributi qua devono stare all'interno di quella che è una cornice nazionale che comunque qualcosa ha fatto. Poi ci auguriamo che da qui alla fine dell'anno possano esserci ulteriori possibilità di contributi o comunque di risorse da poter mettere in campo. C'è la possibilità anche per i subentri. Quindi vogliamo anche dare una mano a tutte quelle imprese che funzionano che quindi sono anni che nella nostra città portano avanti il lavoro nella piccola e media impresa e di conseguenza questo può aiutare a chi subentra a queste attività già esistenti. Gli uffici attività economiche nel momento in cui iniziano le procedure per una nuova apertura perché è chiaro che passano tramite l'ufficio attività economiche comunicheranno alle nuove attività che hanno la possibilità di usufruire di questi sgravi fiscali.